Questo ruolo non può non lasciare qualcosa sinceramente, anche moltissime riflessioni, anche molte riflessioni su quello che è poi la relazione con una persona che si ama, quanto in realtà è facile cadere nell'ossessione, nella mania. In fondo questa donna è una donna che ha in qualche maniera una sindrome, cioè non accetta un abbandono. Questo è un problema grave. Però credo che sia una cosa universale, non credo che sia una cosa legata a un'epoca, un periodo o a una particolare condizione storico-sociale. Credo che questo possa capitare a chiunque. io dico una cosa che ho detto soltanto a Marco, faccio un outing. Io questo film l'ho fatto pensando a mia madre, ma non perché mia madre sia stata così, per fortuna, però perché è stata una donna che ha amato veramente, forse l'unica persona che ho visto nella mia vita che ha amato completamente, ma proprio sempre, fino alla fine e anche oltre la fine. Quindi io ho pensato molto a lei, però quanto questo tipo di amore può essere da un lato eccezionale, possa lasciare a quelli che stanno intorno e che lo vivono di riflesso un ricordo incredibile, indelebile, un esempio, però anche quanto possa essere poi distruttivo per la persona che lo ottiene.